in questo numero del salus tg l'esperto diabete di tipo 2 e infarto si prevengono con l'attività fisica l'inter sindacale in assenza di risposte nuovo sciopero dei medici l'8 e il 9 febbraio rivoluzionaria terapia genica per curare l'emofilia lo studio sono oltre 3,7 milioni gli italiani con diabete di tipo 2 e almeno un milione di persone ne soffre senza saperlo per invertire la rotta occorre puntare su prevenzione e stili di vita sani primo fra tutti il movimento fisico discorso valido anche per l'infarto del mio cardio c'è l'allenamento del muscolo cardiaco nel livello di infarto e quindi un miglioramento della circolazione del sangue e quindi uno stato fisico migliore che permette un'allorazione perfetta e quindi la persona sta decisamente meglio a livello di diabete andiamo a ridurre drasticamente l'insulina la larga adesione dei medici veterinari e dirigenti sanitari allo sciopero del 12 dicembre rappresenta una chiara denuncia delle responsabilità che stanno portando la sanità pubblica al collasso e massacrando le condizioni di lavoro dei suoi professionisti è stato necessario dare un segnale forte per evitare la chiusura del servizio sanitario nazionale per fallimento senza risposte sarà sciopero anche l'otto e il 9 febbraio lo annuncia l'intersindacale vicina una cura per l'emofilia la buona notizia arriva dai risultati di uno studio su un rivoluzionario trial di terapia genica condotto dal servizio sanitario britannico a londra ricercatori hanno scoperto che a distanza di oltre un anno da un singolo trattamento con un farmaco di terapia genica i pazienti con emofilia il tipo più comune mostravano livelli normali della proteina precedentemente mancante insomma la terapia genica li aveva curati per lungo tempo e in modo efficace grazie a tutti grazie a tutti